eccoci con monica ciao elena ciao 5 4 3 2 1 sì allora vedo monica e lei e appare con come se avesse due ali dietro però c'è la posizione quelle delle ali però invece che reali sono come se fossero due fulmini larghi neri con la punta conficcata nella nella schiena due ali fulmini a v se un po seghettate ma si ap c'è triangoli con i bordi seghettati e la punta infilzata nella schiena ti dà l'autorizzazione se me la dà proprio facendomi vedere i due fulmini ok non abbiamo detto ma io lo chiamo nel cinema il tizio che ha fatto delle sessioni a monica e che adesso si è ritirato perché sta male monica ne ha fatte due dipnosi si entra strisciando i piedi molto faticato è come se avesse come se si trasportasse dietro una flebo diciamo che entra accetta l'invito molto molto volentieri con la speranza che chiedere qualcosa che lo possa salvare perché ha smesso di fare ipnosi si sentivo sì perché ha smesso tra fatica mi ha dato avanti fino a quando ha riuscito prima ne faceva magari che capitavano che magari più al giorno non magari non tutti i giorni ma il più spesso che poi ha diminuito pian piano fino a che non non riuscivo a farne neanche una non riuscivo proprio a mettere l'energia per come motivo era interferito sì allora quello che vedo è che si è accorto ok è come se avesse creato una breccia troppo grossa come posso dirti allora si è accorto quando ormai era tardi che non è riuscito non è riuscito a contrastare le interferenze diciamo che quando quando si è ritirato ma come se avesse gettato la spugna quello che posso vedere natura sono le interferenze secondo universo va bene monica vibrazione tre miliardi e mezzo consapevolezza 149 ps 31 vite 1235 cervello 9.8 avevuti altalenanti si chiamiamoli così alto cervello che posso aggiungere una cosa se mi ha fatto vedere subito quando era bimba da quando era bimba se fino agli 8 10 anni finché se l'è concesso mi viene da dire cosa va il suo cervello all'11.6 di media cosa riuscivo a fare da bambina a 11,6 allora durante la veglia cedeva tutto intorno soprattutto i disincarnati come se trovavano leggerezza non so mi viene da dire come se come se diciamo in eterico poteva rappresentare tipo la psicoterapeuta dei disincarnati mi viene da dirti nel senso che senza che lei interloquisse con loro ok loro si rivolgevano a lei comunicavano a lei e facendo questo già si sollevavano un po le loro vibrazioni miglioravano si alzavano e invece durante il sono mi è proprio apparso lei vedevo però vedo proprio che come se fluttuava e poteva andare a vedere in giro ovunque vedeva come vibravano le cose le persone anche in altri mondi ma soprattutto vedo che girava sulla terra e visualizzava proprio le cose le persone sotto forma di vibrazione più densa o più o meno densa va bene vibra e interferenza allora c'è sì ma c'è questa questa interferenza questa entità del secondo universo non mi ricordo il nome però lo descrivo l'ho già visto più volte è come se fosse un uomo blu c'è da blu azzurro abbastanza come se fosse hulk ma blu e con la faccia però più cattiva ok ea tipo delle protuberanze qua ea una una corda attaccata alle due ai due fulmini neri di monica dal secondo universo è come se ci fosse una botola tirata lì a quello dei fulmini ala sì esatto se sì quello è quello di questo universo poi c'è un lupo nero un lupo nero poi c'è un lupo canide sì 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 poi c'è zeus che però mi appare come se fosse dietro un muro con una porta aperta e sbircia dalla porta e poi c'è una mantide qua sulla destra c'è una mantide edl 3 sembra che monica avesse visto la mantide perché la vedrete perché non c'è nessuno al viso ha fatto entità mentali c'è allora ma che strana sta cosa difficile che mi appaiano con una forza è di solito vedo su entità ma ma appaiono più come un oggetto invece questa si è personificata ed è il terzo livello ed è a forma di joker in jolly no che fa il gioco delle carte con monica mi dice quindi la tira diciamo muoversi verso quello che lei vuole fare e poi nella stessa direzione gli mostra un'altra cosa ma ormai lei è in in quell'azione lì c'è diciamo che è tradotto nella realtà lei quando quando si muove si muove pensando di andare in una direzione in realtà poi si trova in un'altra direzione ecco che è diversa da quella desiderata anche il livello 3 poi poi c'è in una di livello 5 direi che mi appare come se le oscurassero dei passaggi cioè lei parte nell'azione ok e poi è come se come se si dimenticasse dei passaggi intermedi ok vede solo la fine ok l'inizio e la fine delle azioni quindi per arrivare dall'inizio alla fine la vedo molto spersa la vedo molto confusa quasi come se non si ricordasse cosa deve fare ecco in eterico mi appare proprio come se questa entità la mettesse su una molla ok quando lei sale sulla molla la catapulta alla fine senza farle proprio percorrere la strada quindi sperse proprio spersa tra l'inizio e la fine ecco cinque sì e poi c'è un rasti catapulta dell'oblio e poi c'è 7 che come se fosse un disco pesante grosso enorme di piombo che collegato all'entità mentale collettiva depressione certo come la chiamiamo visto che depressione è un'entità mentale collettiva quel disco lì lo chiamerei il piombo della gabbia va bene insomma più o meno causa esoterica della passata disfunzione in termini di peso di monica oggi no però in passato sì allora vedo vedo allora è legato molto e come se la vedessi legata un po alla sua viene da dire la vedo in eterico mi appare come se fosse spaventata e in discesa ok e un po l'ha detto prima come se diciamo il cibo la vedo proprio lì che lei mangia un po per distrarsi far passare il tempo ok da una parte poi dall'altra la vedo proprio come una via per non sentirsi sola mi viene da dire per aver qualcosa da fare si è possibile dall'altro ma il motivo che è diverso allora uno è per distrarsi dalla paura di essere attaccata la vedo proprio in eterico spaventata con gli occhi spalancati ok che si guarda intorno e mangiando perde un po l'attenzione verso l'esterno poi mangia perché si sente sola e in solitudine e mangiando diciamo occupa il tempo e poi c'è questa distanza c'era quindi in eterico vedo questa cosa questa distanza di comunicazione con la madre è come se lei in eterico fosse qua la mamma distante distante lei parla e la mamma non consente questo vuoto è come se lei l'avesse colmato spesso con il cibo chiamiamola la mamma papà e la mamma portale auro subito faccio una descrizione dell'apertura del portale auro ogni tanto serve allora diciamo la cosa che è sempre più o meno sempre simile che vedo è come se in una parete nella parete io vedo spesso gli spazi bianchi no e poi si riempiono delle immagini diciamo sottofondo c'è il bianco quindi come se ci fosse questo bianco e un cerchio si crea un cerchio che ruota e si apre il portale aureo e dietro vedo come se fossero delle enormi bolle di questa vibrazione perfetta diciamo ok per per l'energia dei disincarnati e poi diciamo il passaggio che c'è dopo varia oggi ho visto che prima che si creasse il cerchio si è creata una pedana così davanti ok rosa rosa confetto proprio ecco adesso c'è la pedana il buco papà e mamma la mamma si è presentata verso monica come se fosse un corno se quelli che suonano in montagna o suonavano il volo dire no di heidi è fatto però tipo colore giallo chiaro di plastica quindi che se l'è messo all'orecchio la mamma di monica e l'altra l'altra estremità sarebbe per l'orecchio per la bocca di monica ok dice ripetimi bene che cosa hai detto come se avesse bisogno di qualcosa ciao mamma come stai non sento più ha detto pic è tutto un gioco è solo una simulazione e questa che le sta accadendo un'ottima opportunità per rendersene conto switchare svoltare e dire qualcosa finalmente alla figlia dice adesso da qua lo vedo chiaro è come se la vita ma avesse portato via uno strato alla volta come se io fossi avessi vissuto su un enorme spessore di fogli è uno alla volta negli ha tolti e dopo l'ultimo c'è stato il baratro e ha solo adesso lo vedo che avrei potuto decidere di non vivere sopra la pigna di fogli quale entità aveva qua e tipologia in generale no allora del primo direi legati a zeus era ancora era ancora legata al suo progetto della vita di quando era in vita ed è tipo limitarla con quello mi fa vedere tipo aveva tipo due catene legate a un posto brigide però come se fossero dei semi cerchi degli archi di metallo a cui lei era legata e poteva stare solo in quel posto lì detto un po e dietro c'è zeus se lo collegherei alla stessa interferenza di zeus che a monica padre il padre arriva seduto su questa sedia di legno con i braccioli molto comodi molto ampi anche di legno appoggia le braccia e guarda monica incuriosito si sta chiedendo cosa ci faccia lì così monica chiede sera la sua fiamma chito padre ok no diciamo che allora sono stati vedo che ha come se in questa vita avessero ripreso un discorso di alti un'altra vita dove erano sempre padre e figlia dove lui a un certo punto è dovuto andare via è sparito dalla vita di sua figlia intorno ai cinque anni in quella vita la e lei non l'ha più visto e si sono come se in questa vita avessero dovuto portare a termine i loro ruoli padre e figlia mi fa vedere però lui dice cosa ci fa di non capisce cosa sta fa cosa stia e facendo monica vick che non era ben conosciuti essere morto se ne è accorto bene adesso cosa succede a un disincarnato che non è conscio di essere morto cosa cerca cerca di vivere la vita sì allora tipo se guardo lui è come se un po si fosse abituato al fatto che nessuno lo considera un po penso che sia la sua reminiscenza di della sua personalità in vita quindi un po più no che lascia andare mi viene da dire ma se guardo altri casi da si dannano nel senso se non si danno pace quindi vedo che schizzano da un posto all'altro ok sono quelli che secondo me danno più noia ai vivi che riescono interferire di più con i vivi e poi invece mi è venuta un'altra tipologia di quelle persone che continuano a fare un'azione perché in quell'azione di non devono avere a che fare con altri e quindi non vedono come se si chiudessero si negassero un po la possibilità di vedere veramente cosa c'è se la raccontano lui era legato alla terra e interferiva anche solo in minima parte con la scienza in minima parte sì sì infatti come se sì proprio diciamo che l'effetto su monica è proprio che monica sentiva la sua presenza ecco ce lo vedo che si spostava con sta sedia quasi seguendo monica cioè se se era a casa di monica con monica che si preparava al mattino mi viene da dire e poi usciva per andare al lavoro a un certo punto non la trova più si spostava al lavoro per esempio adesso si avrebbe conto ha preso la colla se un nuovo messaggio il cerchio è chiuso io sento che il nostro cerchio nemico è chiuso come ruolo mamma papà figlia questo è bello l'esperienza è stata bella se la sta abbracciando è come se volesse cercare di pulirle come se fa vedere come se le avesse una macchia nera a livello della schiena ok come se lui stesse cercando di pulirle l'effetto del civa ecco questo è un fatto molto interessante perché con una grande intuizione di un nostro amico non ho chiesto se potevo dire il suo nome comunque tu sai che no sembra che ci possa essere una forma di soluzione al cinivaccati e questo deriva dal non cinivaccato della propria cerchia parentale o sentimentale quindi un fidanzato non è un parente però rispetto alla fidanzata è molto collegato quindi no se una famiglia di nove persone di dieci persone una sola non è cinivaccata alle nove non compaiono e gli altri 9 si non compaiono effetti avversi magari funziona anche con disincarnati non ho visto pareraci divaccato monica no perché stiamo parlando di anni fa e sì anche mamma beh magari funziona anche così dimmi un po hai morto a 47 anni vabbè sacco di 2 anni ti dico solo quello ama ma sì però era cinivaccata giusto scusare la bruttezza di questa parola e vediamo cosa fa il padre davanti a queste parole cosa fa dice mi è venuto spontaneo pulire lì c'era questa macchia nera sulla schiena di monica dietro sì ma che altezza potrei dirti a livello sulla schiena a livello del diaframma e mezzo partendo dalla colonna così dorsale di 7 di 8 10 ed è un effetto del cini vacca sì è come se pian piano si si espande che ma piano piano che prende tutto poi come se la persona da colorata da tanti colori diventa tutta nera se uno non riesce a fermare questa cosa monica adesso come grave appunto solo devo dire che la macchia è molto ristretta ok c'è rispetto a tutto il corpo è un cerchio che prende metà di un lato metà di un altro solo lì ok 20 cm di diametro dopo che lui ha proprio massaggiato lì per pulirla diventata grigia un grigio molto chiaro adesso e adesso bianca ok con questa condizione apre una finestra temporale andiamo a vedere tra tre anni se questa macchia è tornata in monica a quello che vedo è che è rimasta bianca quindi come se fosse una cicatrice non tornano i colori ma non si è diffusa quindi gli rimane solo cicatrice di bianca bene chiediamo al padre di farlo alla madre da disincarnato a disincarnato il raccini vacca sta facendo l'ha messo l'ha fatto da qua prima le ha messo la mano così sulla fronte e poi gli ho messo tutte e due le mani di fianco così ok sta diventando tutta bianca tutta prima nel grigia che c'è chiara bianca l'era già tutta nera e teniamo conto quindi senta tutta bianca quello che posso vedere è che la cosa buona che ha bloccato l'effetto quindi anche c'è da qui da oggi in poi ok quindi anche in eterico per tutti diciamo per le decisioni che prende a ps della della mamma poi no però rimane cicatrice quindi c'è questa direi più sulla come se posso dire come si può dire una cicatrice nella ps non è che rimane una cicatrice terica sì ma se non avessimo fatto una persona disincarnata con cinema che in vita ovviamente ha un segno la parte subliminale è marchiata si è come se la vedo pesante come se non potesse non riuscirebbe a vibrare più alto di un tot e come se rimarrebbe obbligata a fare esperienze che vibrano basso a scegliere tra i piani bassi non viene da dire così come se ne ti ricco io vedo la vedo nera pesante ok che non riesce a vibrare alto qualcuno dice che si stacca un pezzo è così allora dal corpo io vedo che è come se pian piano esce più che sta quello che vedo io che non si stacca c'è pian piano come se diventa tutta nera e frastagliata e porta diciamo precocemente alla morte mi viene da dirti del corpo ok quindi poi rimane tutta nera e pesante vibra basso va bene lunga parentesi sui genitori ringraziamo il padre che ha avuto un'ottima iniziativa ci ha dato questo suggerimento salutiamo chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di monica dimmi quanti ne arrivano di suoi se i genitori sono andati e quanti ne arrivano per conto loro non conosciuti edam da monica parenti 215 in più in più altri 735 benissimo e lo chiudiamo bene torniamo a monica depressione cronica quindi entità mentale 7 piombo gabbia di piombo due ipnosi con quel personaggio la che adesso si è tirato all'estero interferenze dalle ipnosi nutrimento delle interferenze altrui diciamo che il lavoro di base lo vedo fatto maniera onesta no quindi come se lui lo faceva in maniera molto pura mi viene da dire posso dirti viene da dire genuina ingenua ecco con un buon intento con alcun altro è dentro un progetto militare esatto no è come se avessero fatto apposta far sì che lui non si accorgesse per un po per farsi di poter prendere l'energia dalle persone e come se l'entità si accordassero e andavano a periodi quindi c'era il periodo dove c'era una certa entità che prendeva energia dai clienti e poi un periodo un'altra entità ma lui è come se dopo un po se ne fosse accorto ok e quindi lì che è iniziato a cercare di lottare ma poi non ce l'ha fatta era troppo faticoso e ha gettato la spugna nelle due ipnosi di monica allora una volta secondo universo bocce vien da dire titanus però non saprei perché ha tipo una maschera nera tipo quella però poi mi dice tanus quindi è invece un'altra volta è proprio chiaro mi fa vedere come se ci fosse un personaggio con una barba bianca lunga seduto su una specie di trono e mi fa vedere israele ok e che si proietta su monica con l'immagine di gesù e da lì che ha risuonato con la sua passione certo se la sua passione per la passione di cristo va bene l'ottimo la passione di cristo perché questo attaccamento al film concetto all'idea allora io la paragonerei al sai che un po di mesi fosse l'anno scorso era quando hanno fatto quella quella sfilata di notte con tutti quelli vestiti da schede 100 scheletri piazza duomo a milano che mi è arrivata subito quell'immagine che ci sono dei momenti dove vedono che è come se fosse un momento fertile dove se fanno una certa azione molto evidente molto forte energeticamente riescono a prendere tantissima energia che vibra basso ok quindi quando hanno fatto quel film lì l'hanno creato proprio perché era un momento in cui avrebbero raccolto tantissimo infatti io vedo proprio che hanno fatto in modo che le persone che hanno visto fin mentre guardavano film bel cinema di più ma anche anche in televisione anche su uno schermo normale hanno fatto in modo quasi che hanno fatto in modo che le persone mentre guardavano film si sentivano proprio lì quindi loro sono riusciti a prendere quell'energia che vibra così basso di tortura di dolore di sofferenza quasi come se tutte le persone fossero lì in quella situazione né quindi molto hanno raccolto molto ok mel gibson il regista è dentro il sistema lui però ha denunciato olivo di bambini trattati io lo vedo dietro proprio che quasi organizza ce lo vedo che organizza la prima immagine è arrivato è lui che sta organizzando un rito quindi sta dicendo le persone dove mettere fare le cose dal tonne mi sembra stanno che se ancora vivo non c'è quello che ha denunciato un altro quello di adesso è sostituto si assicuri che quello che ha fatto la denuncia da lui c'è mi viene quasi da c'è quello che vedo è quasi come se essere usato la sua figura per denuncia non so non mi sembra lui in quel momento e che poi ha fatto sparire hanno ammazzato quello mineta ricco vedo che non c'è non è lui di che parla come se avesse la maschera di mel gibson però poi sparisce non lo vedo più vedo straiato morto va bene labirintite è una delle sospette le sue reazioni avverse da cinivac perché causa esoterica allora nel suo caso guardando proprio monica ok vedo la sua labirintite ok ed è come se dopo il cinema ci fosse qualcuno che tira una corda dentro e riaccende in maniera molto visibile i sintomi proprio quasi come se allora diciamo la l'attivazione della labirintite normale nel corpo ok crea una luminosità diciamo sui nervi che si accendono con un grado di luce 2 oggi elena scientifica è come se dall'alto tirassero la cordina della labirintite e la luce fosse 10 quindi i sintomi sono a 10 quale sarebbe senza questa sessione il prossimo sintomo se c'è ipersensibilità alla pelle quasi come se bruciasse sempre la pelle a questa storia del bruciare mi sento bruciare la pelle mi brucia mi brucia qualcosa dentro partendo dal presupposto che non sapevo che fosse uno degli effetti c'erano sapevo sentono tutti bruciare sia subito dopo sia dopo un tanto sì è come se questa luce ok venisse diffusa come perimetro di tutto il corpo e quindi quando l'accendono l'accendono su tutto il corpo prima partendo alle braccia poi pian piano scendendo adesso ai piedi caldi la sera cosa non è mai successo terzo effetto reazione avversa se c'è nel futuro con le vecchie condizioni ma questa cosa che aumenta quindi poi dall'esterno vedo che prenderebbe i nervi interni quindi come se fosse viene da dire un fuoco di santo antonio diffuso su tutto il corpo a intermittenza ma quindi di continuano cosa che può sbarrellare c'è un dolore disturbi alimentari ne abbiamo già più o meno passi la cosa da aggiungere è parlato di magia nera durante l'esposizione dei punti ma poi non ne ha più quindi io non mi ricordo la correlazione tra magia nera subita penso e il sovrappeso del tempo che fu probabilmente questa io l'ho vista proprio in eterico che l'ha iniziato a avere questo rapporto col cibo l'avete in eterico pop spaventata quindi come si è appoggiato al muro e agli occhi spalancati quasi fuori dalle orbite no che continua a guardarsi intorno per vedere se il pericolo si avvicina ecco il pericolo la paura l'idea del sud e pericolo che lei ha in quel momento se guardo davanti è come se fosse un grosso un grosso come posso dire new vien da dire ok con tanti piedi lunghi 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 fino a terra quindi come se fossero a new pelosissimo che sarà vicina bianco adesso se il demonio beh lei è stata sottoposta a un esorcista non cattolico sostiene che disturbi alimentari sono legati appunto a queste fatture subite in famiglia sospetta magari anche dell'esorcista e poi parlava di piacere agli uomini quindi ipotizzo mangiano di più piaccio di meno perché gli uomini non mi piace è pericoloso mi era venuta questa cosa subito come primo pericolo proprio a livello se mi era già venuto prima no questa cosa che tu dici non vedo ho visto più che su di lei mi viene forse che ha visto dal vivo una violenza o qualcosa di rapporto sessuale o dissimile anche piccola forse tre quattro anni posso fare che ha proprio questo successo 4 4 anche fatti scrivimelo non capisco non lo sapevamo che se è successo questo lei assistito è fatti anche chiaro noti chi si lo vedo così non ho visto niente io vedo lei che vede donno paterno solo con le mani ma con te anche lei bello quello che è ma che appare che come se lei l'avesse visto fare se è staccata ma c'è da quattro anni che si era infatti ecco i dubbi del sonno mi è venuto come cosa subito la stessa roba nel senso questa paura deve tenere il controllo ma però con gli studi del sonno ansia del green cards quando è uscito il green cards adesso non posso fare niente posso fare niente ha iniziato a non dormire più è siri di monica però siamo nel regime me non possiamo dire le parole e allora ci divertiamo perché siamo nel regime totale regime totalitarie non posso dire che incazza già posso dire solo che incazza perché c'è il paccato a se no censura noi siamo in piena democrazia pd no tp se no pd non si può dire tv accesa adesso diventata una pessima abitudine pessima io conosco uno che dorme con la tv accesa pessima praticamente non dorme no non solo ci abbassi ecco il riposo entrassero le informazioni senza neanche volerlo anche se western spaghetti no anche se spessere teresil e ben tanto le informazioni lì che sono un po più così ma arrivano come se avessi un filo diretto vedo perché sei nel sonno e sei in generabile sì e se durante batti pensere terrensile arriva un telegiornale della notte tutti tutti i recati disturbi del sonno sì allora questa i per la rivedo come se disse le si fosse riacceso quel momento lì di paura di mettersi al muro spalancare gli occhi fuori dalle orbite tener tutto sotto controllo è come se lei si sentisse braccata di nuovo anche se la situazione completamente diversa ma questa cosa di della sport non poteva uscire ok io fare disfare era come se si fosse trovata ancora immobilizzata lì va bene andiamo via veloci piore identi causa esoterica allora lei c'è qualcosa che lei vuole prendere e non riesce a prendere gli sfugge come se lei avesse quasi preso poi gli sfugge non riguarda non vedo la parte economica io potrei dire più invece la parte maschile quindi la relazione con l'uomo sì allora come se andasse in contrasto quindi la sua paura di avere una relazione poi l'ha fatto andare indietro ma riesce diciamo a quando lei inizia magari avere una relazione o comunque un anche una relazione d'amicizia comunque inizia conoscere una persona un uomo più da vicino ok questo fa sì che lei ha raggiunto il suo boccone ha raggiunto la cosa che lei voleva raggiungere quindi rapportarsi con un uomo che le piace ok da cui attirata ma poi c'è tutta l'altra parte che è molto spaventata e fa sì che lei si allontani e questo fa sì che i suoi denti abbiano dei problemi perché è proprio prendere il boccone pro e contro della medicina cinese cui si è affidata sì allora c'è tutta la parte diciamo di rimedi che le vengono dati o azioni che le deve fare di suo che le vedo molto positive molto proficue e molto che seguono pro biologia ok pro la sua fisiologia e poi però vedo che ci sono delle cose energetiche che come se mentre lui le fa questa parte energetica è come se in etericola collegasse a dei tubicini che le portano via una parte di energia al suo insaputo ovviamente vedo proprio che il medico lo fa in maniera genuina cioè in maniera positiva lo fa con tutte le buone intenzioni non lo sa ecco i numeri che le arrivano non dell'otto della ps sì 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 sono della ps adesso non so che numeri vede lei le arrivano lei io prima a me sono apparsi questi tre numeri 235 come se quando appaiono in ordine crescente lei diciamo la ps le dice ok continua così perché stendendo nella direzione giusta ok quando invece sono non sono in ordine crescente significa che c'è qualcosa che la boicotta si sta auto boicottando si sta autofrenando stand anni soliti si ameri dopo 11 12 222 che non sono numeri doppi ma sono numeri uguali perché quando sono in sequenza giusti quindi anche quelli doppi ok la ps dice che essere sulla strada giusta continua anzi glieli fa proprio vedere per dire non mollare cioè rimani centrata così quando invece sono confusi sono non sono in ordine crescente o non sono doppio sono casuali e lei se ne accorge proprio della serie no non sei centrata come se la riportasse lì vedo una cosa scusate a volte quando lei è sulla strada giusta e vede i numeri doppio la sequenza giusta c'è come un'altra vocina tra virgolette che gli dice no più che una vocina è come se le succedesse qualcosa di negativo apposta come se l'entità volessero farle succede qualcosa di negativo per farle dire vedi che non sei sulla strada giusta per per depistarla ok quindi dire no questa direzione no e lei prende la direzione sbagliata tra virgolette questo vale per tutti no 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 e la sua specifica infine chiamiamo la cugina nel cinema che già conosciamo i miei si viene come la vedi cosa fa felicissima non vedi che avevano l'ora di essere chiamata sta facendo i salti risulta come se fosse sempre un certo scusa salto un po di palo in frasca va bene dare l'avventura con l'esorcista cosa porta allora l'esorcista ha creato una spirale di legame energetico vedo proprio che è come se lui avesse fatto una spirale di energia e da lì è come se ha creato un tubo diretto da cui hanno preso l'energia di monica io direi che secondo me la depressione è iniziata lì come si chiedesse dato un canale di hulk un lupo ma non so quali due per essere hulk se lo stesse secolo blu bello va bene andremo adesso proprio quel cluster andremo all'avatar ma primo articolo della fiamma allora vedo questa roba stranissima ma non è capitato è come se ci fosse la sua fiamma che c'è vedo quest'uomo ok che come se fosse dietro un vetro che sbatte i pugni cerca di chiamarla lei non sente lui e cini no e lei si bene vedi ok allora facciamo un esperimento entro io nella scena se vuoi anche tu ma non complichiamo la situazione entro nella scena mi metto in eterico davanti a monica in eterico dobbiamo stabilire un legame ma anche un legame di amicizia in eterico chiedi lei in eterico se lo vuole stabilire con me all'interico dice contesti nemicido bene io non sono cini è obbligatorio cini non è vero nessuno mi ha mai detto niente nessuno ma neanche il med di base va quindi tutte balle se vi siete cini se di solo colpa vostra non è colpa di nessuno poi vari cancelli età eccetera si trova al modo solo colpa vostra colpa responsabilità vostra ora monica ed io siamo amici abbiamo un legame dice il mio amico di cui la prossima volta fosse il contro di radome ma non esso non so posso riprogettiamo la frequenza del cuore di monica e lei copia il mio questo ha come conseguenza il la motivazione per cui ci vogliono tenere separati durante i locat e anche lì non si può dire la parola sennò siamo in democrazia certo come no è che se siamo vicini questa cosa si può fare siamo separati si usa solo la tecnologia tele lavoro ognuno cazzi per cazzi suoi sempre nove malattie tutto questo non è possibile quindi qualche modo io riprogrammo correttamente monica oggi se lei lo permette con la mia con il mio legame di cuore di amicizia in questo caso come se lei fosse una mia parente e lei è priva di reazioni avverse avrà sempre le robe dentro il sangue ma non ha reazioni avverse ma dimmi cosa vedi è la prova è non un'idea allora quello che vedo è che allora tu gli hai dato le mani c'è un oggetto fumo di cuore in mezzo a voi due che fruttua lì tu gli hai dato le mani passa la tua vibrazione che in questo caso è azzurra viola ok passa da te arriva lei che si diffonde in tutto il corpo ok poi sono andata a vedere cosa fa che informazione da proprio non è dettaglio mi sono avvicinata e dalla cellula escono probabilmente sono la proteina spike e citochine probabilmente ok vedo questi modelli con le che escono e questa vibrazione questa informazione vibrazionale come se le schiacciasse le annullasse su ognuna come se fossero delle presse tutto appena escono queste sostanze infiammatorie che dovrebbero andare in circolo la vibrazione blu viola le schiaccia e le annulla ma richiesta vibrazione è quella che tu gli hai passato ok adesso è di monica adesso di monica assolutamente c'è passiamo i passi di informazione proprio l'informazione quindi impara quella vibrazione di egli rimane allora se tu stacchi le mani si attiva quando è necessario invece in quel momento che c'era l'oggetto il cuore in mezzo e le mani continuava a scorrere la vibrazione quindi era continua e si vedeva sempre invece se stacchi le mani lei ormai ha imparato e sattiva con la vibrazione di quando è necessario perché è la vibrazione di cuore se lei vibrasse sempre così farebbe fatica a vivere sulla terra come tutti noi e la vibrazione pura di cuore e valida per sempre se non si fa interferire da interferenze che man mano vanno a inibire questa informazione ma non che sparisce semplicemente la inibiscono ormai la presa cioè esatto si sono quando te cluster niente questa informazione viola come la chiameresti io la chiamerei vibrazione della vita uno stop reazioni avverse sr hanno vivi vibrazione vita sì che poi la stessa lettera del tizio infatti via al quadrato ecco dai per quadrati ci piace se cluster monica ci chiedeva come sono i contratti cosa devo fare dei contratti ma se si elimina un contratto ma è la fase preliminare togliamoli e basta via un bel soffio la v2 di al quadrato esce dalla sua bocca e se ne buon se ne vanno tutti in un buco portale definitivo no 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 chiuso sì che succede allora creato come se fosse un foglio piegato a ventaglia ok appoggiato giù poi la aperto e da lì è uscita tutta la vibrazione dell'ate eterno si è diffuso in tutto il cluster avatar fa finta di niente fa finta di guardare la televisione togliamolo nuovo ad eterno ma anche qui grazie a tutti messo c'è messo ok con questa condizione gli impianti che non ci interessavano non abbiamo neanche analizzato le entità iteriche l'entità mentali esistono ancora il progetto come si chiamava ed esiste ancora sfera bloccante il mentale 7 e l'entità mentale collettiva depressione esiste ancora no 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 la v2 via al quadrato la vibrazione vita che provoca lo stop delle reazioni avverse da cini vacca è ancora presente è diversa e maggiore minore più bella e più brutta ci libera c'è un posto dirci all'informazione adesso prima che aveva ancora le interferenze era come se fosse chiusa in una scatola se un portagioie ok e all'evenienza veniva aperte funzionava adesso non è lì l'informazione lì ma non è chiusa in un portagioie ma è lì e quindi pronta a funzionare ad agire ok da adesso a cinque anni monica avrà reazioni avverse da cini no cercheranno se lei non presta attenzione sempre cercheranno di provocarle sintomi simili reazioni avverse per farle credere che non funziona come dei piccoli piccoli sintomi che dicevo ok e lì inibire inibirebbero la via quadrato e le avrebbe di nuovi sintomi ma se lei è consapevole le tiene lontane e lontani questi sintomi e la via quadrato funziona va bene e tua cugina e cinivaccata no però no quindi noi lo diamo neanche il v2 benvenuto v2 e grazie al nostro amico per questa è geniale intuizione cosa vuole dirsi l'araba fenice monica lei che risorge ogni volta che si piglia un'ava tosta adesso sto solo ai piani alti dice adesso vibro solo alto basta adesso nessuno mi porterà più giù si è come costruito un disco volante di energia che vibra altissimo che sta sotto dire quindi ogni ogni movimento che lei fa al disco che la tiene in alto quindi più giù non può andare perché al suo disco volante che vibra alto che la tiene in alto va bene come la vedi è la vedo pronta a partire con il suo disco volante nuova vibrazione 238 miliardi nuova vibrazione se non avessimo inventato la vibrazione vita 121 nuova consapevolezza 197 nuova ps che era un po bassa alla vedo la ps che fa c'è mi vede a tradurla così nel senso potesse respirare ed è 68 nuovo numero di vite 1235 era 987 cervello in questo momento è 10.3 arriverà a 11,6 di quando era come quando era bambina allora mi viene da dire sì potenzialmente sì è come se lei deve lasciare un po andare la sua bassa autostima no la vedo proprio che limita che potrebbe potrebbe tendere ad autolimitarsi con la bassa l'autostima proprio quasi come se tirasse giù la sua vibrazione e suo utilizzo del cervello perché sennò lei sa benissimo come si fa a 11.6 quindi può tornarci tranquillamente ci può arrivare se se un timing sei mesi se rimane centrata e e non si fa tirare giù può fare tante cose 11,6 vero cosa allora vedevo già prima ok sentire vedere le energie le vibrazioni intorno mi viene quasi può iniziare la telepatia quindi la lettura del pensiero a quel livello lì è più è un inizio quindi può può succedere con qualcuno che vibra alto anche di là non con tutti diciamo queste cose qua inizia al proprio sentire bene l'energia usarla dimmi poi verso 15 16 per cento che a cui potrebbe arrivare inizia potrebbe iniziare quattro le cinesi va bene la vedi bene se si era vedo bene la vedo prontissima a sfrecciare questo disco le ali non ci sono più no 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 non c'è neanche perché non c'è più niente c'è solo lei e i suoi progetti e più vicino la fiamma c'è ancora il vetro non c'è più il vetro e lui è come se si fosse rilassato senza vetro allora lei l'ha visto lei l'ha visto e diciamo il messaggio che gli ha mandato è pian piano mi avvicinerò ad essere pronta ad incontrarti beh dipende da tutto 2 si sia monica esatta non solo dalla fortuna del ca una che ho va bene pronta a tornare sì